Nonostante controlli, nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di circa 100 migranti si è introdotto illegalmente nel porto di Calais. Una parte di questi è riuscita anche ad imbarcarsi su un traghetto alla volta dell'Inghilterra. La polizia è restata oltre 60 persone, alcune di queste si trovavano già a bordo della nave. La situazione è rimasta critica fino a domenica mattina, quando alcuni dei migranti hanno posto resistenza all'intervento delle forze dell'ordine, arrampicandosi su una passerella dell'imbarcazione. Nonostante i ripetuti interventi per evitare la creazione di una nuova giungla, a Calais vivono accampati tra i 350 e i 500 profughi che sperano di attraversare la manica.